150.000 contatti l'anno, 60.000 dichiarazioni di redditi con queste cifre, il CAF della Cigelle di Bari è il più grande centro autorizzato in esistenza fiscale della Puglia. Il Presidente della Repubblica Napolitano ha la presentazione del libro di Silvia Berti Crissi, Rinascita e Ricostruzione, Giuseppe Di Vittorio e il piano del lavoro. Il Presidente della Repubblica Napolitano ha la presentazione del libro di Silvia Berti Crissi. Il Presidente della Repubblica Napolitano è il patronato della Cigelle preposto all'assistenza delle pratiche previdenziali. L'intervista. Abbiamo un compito di particolare attenzione nei riguardi dell'utenza perché diamo assistenza per quando riguarda la compilazione del 730 con tutte le sue fasi successive, l'unico, l'ISE, il redd. Anche particolare attenzione noi la diamo per quando riguarda le domande di successione e la creazione delle buste paga alle colf badanti. Un particolare strumento è invece per quanto riguarda l'ISE dove noi sappiamo benissimo che oggi per aver diritto allo Stato sociale, al welfare, noi siamo in grado di compilare la domanda e di dare all'attestato dell'ISE che permette agli utenti di usufruire di una serie di agevolazioni nei quali le riduzioni per quanto riguarda le tasse universitarie, per quanto riguarda anche il gas, l'energia, i trasporti, cioè tutto il complesso mondo che ha a che fare con lo Stato sociale. Alfio Giuga tu sei anche direttore dell'Inca che è un altro servizio particolare, in che cosa consiste? Tratta tutta la problematica del mondo previdenziale, previdenziale, ciò che riguarda l'Inps, riguarda l'Inail, le invalidità civili, tutto il complesso mondo dell'assistenza, anche quello è un altro campo, un altro filone che riguarda l'assistenza. Bisogna tenere presente che noi, per quanto riguarda il patronato, siamo a disposizione con i nostri sportelli che sono ubicati in tutta la provincia di Bari, per quanto riguarda domande di pensione, domande di integrazione, supplementi pensionistici, o per quanto riguarda tutta la problematica, l'immensa problematica che ci coinvolge, per quanto riguarda l'Inail, sul cosiddetto danno alle persone che riguardano gli infortuni e via di seguito. Possiamo fare una stima dei contatti, sia quelli Inca, sia quelli CAF, dato che quello di Bari è il più grande CAF della Puglia? Sì, per quanto riguarda un po' di numeri, possiamo dire che noi mediamente in un anno come CAF abbiamo 200.000 contatti di persone che si rivolgono da noi per, ripeto, una serie di prestazioni e una serie di richieste di documentazioni. Per esempio, per quanto riguarda il 730, siamo il CAF che nel 2012, cioè quest'anno, ha fatto quasi 60.000 dichiarazioni di 730. Anche lì sull'Inca stiamo sui 200.000 contatti, abbiamo delle buone performance per quanto riguarda sia l'invalidità civile, sia per quanto riguarda le prestazioni da richiedere all'Inpse. Qual è la differenza tra chi è iscritto e chi non lo è alla Cigelle per soffrire di questi servizi? Per quanto riguarda il CAF, l'essere iscritto alla Cigelle dà diritto a una serie di prestazioni a titolo gratuito o a titolo oneroso, ma applicandosi una tariffa per gli iscritti. Per chi non è invece iscritto, la tariffa è una tariffa piena. Per quanto riguarda invece l'Inca, non c'è un discorso di tariffe perché lì l'assistenza per legge è dovuta a tutti quanti, coloro i quali si rivolgono al patronato Inca. E torniamo a parlare dell'avvertenza Ecolater, l'azienda conciaria di Monopoli nel Varese che tempo fa ha aperto la procedura di mobilità per 96 lavoratori del reparto Taglio. Purtroppo non ci sono buone notizie dopo l'incontro dei vertici aziendali con i sindacati e con la task force regionale, in quanto la regione Puglia ha fatto presente che i fondi disponibili per le imprese sono riservati alle aziende medio-piccole. La Ecolader non rientra in questa tipologia, ma sentiamo nel dettaglio come evolve l'avvertenza nell'intervista a Giuseppe Altamura, segretario generale Filctem, CGL Bari. Abbiamo avuto una grande disponibilità delle istituzioni, ma fattivamente non ci sono stati grossi risultati. Questo c'è da dirlo anche a fronte di un'azienda che ha preso una posizione abbastanza dura e drastica rispetto a questa situazione del reparto Taglio dell'Ecolater. Abbiamo tenuto delle assemblee nell'azienda il lunedì 8 ottobre e abbiamo avuto ampio mandato dai lavoratori a mettere in campo tutte le azioni di lotta sindacali e non per tutelare i 100, quasi 100 posti di lavoro che sono oggi tuttora a rischio nell'Ecolader. Si è firmato il mancato accordo per quanto riguarda la procedura di mobilità e quindi adesso ci rincontreremo presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Non sono notizie buone purtroppo, ciò che invece di buono c'è è che abbiamo tutte le carte a nostro favore per quanto riguarda la tutela di questi lavoratori. Intendiamo poter accedere agli ammortizzatori sociali prima di parlare, come invece l'azienda vuole fare immediatamente, di una messa fuori dall'azienda. Da un'avvertenza ci sposiamo ad un'altra. Il governatore della Regione Puglia, Nicchi Vendola, riconosce le ragioni del sindacato a tutela dei precari della Fondazione Petruzzelli. Il Presidente ha risposto alla missiva del Ministro Ornaghi, riconoscendo in pieno le tesi della CGL poste al tavolo della Task Force regionale. In particolar modo il riferimento alla validità del contratto nazionale anche per i lavoratori della Fondazione e in secondo luogo l'accessazione giuridica del comma 8 bis della legge 100, secondo cui essendo una deroga smette di avere efficacia il 31 dicembre 2012. In altre parole anche per i lavoratori precari del Petruzzelli, secondo Vendola, va riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni, avendo loro stessi prestato servizio per anni nella Fondazione. Adesso si attende l'attivazione del tavolo Ministero Regione per dirimere la controversia. Gli uniti in Assemblea i lavoratori sono pronti a continuare le azioni di lotta per vedere riconosciuti i loro diritti. E chiudiamo spostandoci a Roma il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, presente alla presentazione del libro di Silvia Berti, crisi, rinascita, ricostruzione. Giuseppe Di Vittorio e il piano del lavoro. Vediamo. Tra la fine del 1949 e l'inizio del 1950, Giuseppe Di Vittorio, il grande leader della CGL, lanciò la proposta di un piano del lavoro per la rinascita dell'economia nazionale. L'idea di fondo era quella di mobilitare tutte le energie produttive disponibili per far sì che la necessaria, quanto faticosa, ricostruzione postbellica si traducesse nell'avvio di una nuova fase di sviluppo. Alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, economisti e storici, imprenditori, politici, sindacalisti, si sono dati appuntamento a Roma, nell'archivio centrale dello Stato, per discutere di crisi, rinascita, ricostruzione. Ricostruzione, Giuseppe Di Vittorio e il piano del lavoro, titolo del libro scritto da Silvia Berti, docente di storia moderna presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università alla Sapienza di Roma, nipote di Giuseppe Di Vittorio. L'autrice ha messo a fuoco nel volume il significato storico del piano del lavoro, cogliendone quei tratti in grado di ispirare politiche economiche di ricostruzione e di sviluppo, volte a fronteggiare la grave crisi del nostro tempo. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per essere stati con noi, potete seguirci sul nostro sito internet www.cgelebari.it Arrivederci!